Il Movimento 5 Stelle spelle il sindaco di Gela Domenico Messinese. È il primo caso in Italia. Le nubi erano dense all'orizzonte da alcuni giorni ad offuscare le 5 stelle e infine furono fulmini e saette. Cadono le 5 stelle al comune di Gela ed è fuoco incrociato di accuse e risposte alle accuse. E si tratta di veri e propri botti di fine anno, deflagranti. Il sindaco Domenico Messinese non fa più parte del movimento in quanto venuto meno agli obblighi assunti con l'accettazione della candidatura. Si è dimostrato totalmente fuori asse rispetto ai principi di comportamento degli eletti nel Movimento 5 Stelle e anche alle politiche ambientali, energetiche e occupazionali più accreditate in ambito europeo. E quanto stabilito dal Movimento 5 Stelle Sicilia alla luce del comportamento tenuto fino ad oggi da Domenico Messinese, sindaco di Gela, eletto nelle fila del Movimento. Messinese prosegue il Movimento 5 Stelle Sicilia, non ha provveduto al taglio del proprio stipendio nonostante il Consiglio Comunale di Gela abbia votato anche un atto di impegno in questo senso col fine ulteriore di generare un effetto domino normativo che avrebbe portato automaticamente alla riduzione delle indennità degli assessori e dei consiglieri. Messinese aggiunge il Movimento 5 Stelle Sicilia ha avallato il protocollo di intesa tra Eni, Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Siciliana. Un accordo che il gruppo parlamentare all'Ars del Movimento 5 Stelle ha osteggiato con tutte le sue forze non soltanto perché è in aperto contrasto con i suoi principi ma anche perché è contrario alle più accreditate politiche di tutela ambientale, energetiche, occupazionali e di economia turistica. Il sindaco di Gela invece di metterlo in discussione e bloccarlo l'ha accettato consentendo che sul territorio di Gela si avvini attività di esplorazione e produzione di idrocarburi con la perforazione di nuovi pozzi e la riapertura dei vecchi in questo contribuendo a deturpare ulteriormente il paesaggio e compromettendo inevitabilmente l'equilibrio biologico delle acque costiere oltre al grave danno derivante all'economia turistica della zona. In ultimo conclude il Movimento 5 Stelle Sicilia avallando questo protocollo messinese accetta la riconversione degli impianti per la produzione di olio di palma per avviare i piani di recupero dei livelli occupazionali. Programmi vetusti totalmente avulsi dalle politiche energetiche e ambientali dettate dai nuovi obiettivi europei e di conseguenza piani che si stanno rivelando completamente inutili. Il Movimento 5 Stelle Sicilia non fa alcun riferimento nella sua nota all'epurazione dei tre assessori Lorefice, Damante e Di Paola dalla giunta capitanata da Messinese avvenuta negli ultimi giorni e dei contrasti con il gruppo consigliare Grillino. Ma da più parti si sostiene che siano stati proprio questi episodi a portare il Movimento a livello regionale a non riconoscere il primo cittadino gelese come attivista 5 Stelle. Si chiude un anno col botto politico a Gela, se ne preannuncia un altro, altamente esplosivo. Grazie a tutti.